Sainz durante l'anno e poi stampiamo a fine anno. Dicevamo che appunto era mancato tutta questa settimana già. Sì, martedì, mercoledì e poi ieri ha richiamato per chiedere ulteriori due giorni di malattia. E ha chiamato prima eventualmente delle... Sì, sì, no, ha chiamato intorno alle 8.30, 8.40. Con una persona assolutamente al di là di ogni sospetto, ecco. Ah, ha risposto proprio lei alla chiamata? Sì, io, io, perché sono in questa stanza, quindi ho risposto al telefono. Insomma, Carlo dice oggi ho bisogno di riuscire, sto poco bene, quindi continuo la malattia. E come le è sembrato dalla voce? Tranquillo, non era, diciamo, non era particolarmente nervoso dal sono. No, no, assolutamente, sono un tipo molto pacato. Stai bene? Sì, grazie. Un po' meglio, però bisogna adiantare un altro video del giorno. Niente di particolare. Scusate, soprattutto nessuna volta.